Benvenuti a Napoli, città di mille colori. La vostra favolosa esperienza napoletana soggiorna residence con falone. A pochi passi le fermate della metro di Salvatore Rosa e Mater Dei, tra le più acclamate in Europa per l'innovativa architettura, vi collegheranno in tempi brevi con tutta la città. Il nostro personale accogliente a carattere familiare renderà unico il vostro soggiorno. Un meraviglioso terrazzo all'aperto allieterà le vostre giornate, dal risveglio per la prima colazione all'imbrunire, per un meritato stupolano o per una piacevole cena conviviale. Tutto caratterizzato dalla cucina tipica napoletana. È come essere a casa. L'energia, il relax, la cucina e il calore di Napoli è tutto qui. Benvenuti a Napoli, benvenuti al residence con falone.